Si prosegue a tappe serrate verso il varo definitivo del piano per la ricostruzione dei luoghi terremotati sull'isola Dischia in 2017. Sindaco Pasquale, un'altra riunione, sembra di capire, focalizzata soprattutto sulla questione della delocalizzazione? No, no, la riunione si è resa necessaria, diciamo, una riunione fiume perché sono stati trattati diversi argomenti. Uno è il piano di ricostruzione delle considerazioni, delle valutazioni da poter fare unitamente alla dottoressa Calcaterra per casa Miccioterme e il sindaco del Deo di Forio con la struttura commissariale. Poi c'erano 14 pratiche da portare in conferenza dei servizi per la ricostruzione e quindi bisognava lavorarci. Poi la riunione per ogni singolo comune per la predisposizione dell'ordinanza speciale delle opere pubbliche che il commissario Legnini ha più volte, diciamo, illustrato, annunciato anche alla stampa. Quindi per questi tre argomenti molto seri chiaramente si è resa necessaria una riunione molto lunga. E quindi prende corpo la ricostruzione delle opere pubbliche nei tre comuni, immagino che abbiate già individuato quali sono le strutture da interessare dagli interventi, comune per comune, e se non erro anche la scelta di dover individuare delle aree nel caso di una localizzazione ulteriore di altri insediamenti. Hai fatto una domanda che presuppone due risposte. La prima parte della tua domanda è riferita alle opere pubbliche. Appare evidente che il comune di Lacquameno, come abbiamo già avuto modo di annunciare qualche mese fa, ha ad oggetto cinque interventi, perché saranno cinque per ogni comune, immagino. E questi cinque interventi sono più precisamente la torre e il costone di Montevico, il liceo scientifico, la scuola in località fundera, la scuola provvisoria nel terreno che abbiamo acquisito a patrimonio comunale, gli scavi di Santa Restituta con le sovrastrutture. Questi sono i cinque interventi previsti nel mio comune che il commissario Legnini sta valutando sulla scorta di nostre osservazioni e relazioni per poterle contemplare in questa ordinanza per quanto riguarda l'Acquameno. La faccenda invece di immaginare volumi per la delocalizzazione attiene invece al discorso, e quindi è la seconda parte della tua domanda, attiene invece al discorso del piano di ricostruzione, dove noi sin dall'inizio come comune di Lacquameno abbiamo sempre sostenuto che non immaginiamo una ricostruzione senza un piano e questo diciamo smentisce anche attraverso i vostri canali la diceria secondo la quale non vogliamo il piano di ricostruzione, non è così. Noi non abbiamo mai immaginato una ricostruzione senza un piano, è chiaro che il piano debba essere omogeneo, deve prevedere alla fine del percorso non tanto e non solo portare a casa la gente, ci mancherebbe dopo cinque anni, ma prevedere anche uno sviluppo di carattere commerciale, economico, turistico, sociale, una ripresa di quei territori.